ragazzi buongiorno eccomi qua dunque stamattina sono arrivato un po così all'improvviso vi ho dato giusto punti minuti di preavviso la connessione non è un granché quindi mi vedete piccolo piccolo spero che le cose un po migliori no vi ho messo credo spero il link per eventualmente accettare dimostrare la vostra faccia nei commenti qualora volesse lasciarmeli questo vi comportiamo ovviamente la cessione del primo genito maschio a stream yard però diciamo anche questo è nell'ordine delle cose volevo condividere voi una roba che sto facendo negli ultimi giorni nulla di scientifico nel senso non ho assolutamente la pretesa di venirvi a raccontare come si fa il posizionamento con tecniche del genere sono cose che studiavo già parecchi anni fa ma che ogni tanto mi fa piacere riprendere soprattutto quando 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 il momento è propizio intanto buongiorno a chi si sta collegando replico le scuse per essermi diciamo proposto così all'improvviso scusate se la commissione è un po' barbina buongiorno a tutti ciao allora che cosa ho fatto questo è un test che adesso vedrete sulle attribuzioni semantiche cioè cerco di muovermi utilizzando siti esterni buongiorno buongiorno utilizzando siti esterni per provare a capire se riesco a imbrogliare il motore di ricerca ok quindi sono quei test che possono anche metterti in cattiva luce sulla community non sono test che richiedono di mettere online un fantastilione di pagine web oppure di fare spam utilizzando domini di terzo livello backlink provenienti da commenti eccetera quindi se la dobbiamo come va detta non è uno di quei test che sporca il web però è un test che noi facciamo per vedere se riusciamo in qualche modo ma neanche voglio dire a fregarlo cioè oddio un po' sì o sì però lo facciamo con finalità di studio cioè per capire che cosa capisce google se possiamo in qualche modo ingannarlo per fargli credere che è una cosa ha un significato diverso da quello che pensa lui allora come nasce questo test io ho aperto un un alert ve lo spiego in maniera molto lineare ok ho aperto un google alert per nome e cognome francesco margherita ok su questo alert ogni tanto escono le notizie che riguardano me ma che riguardano anche qualunque cosa non concentri un tubo con me ma che contenga in croce le due parole due termini francesco e margherita e potrete immaginare che questa cosa capita spesso a volta non me ne frega niente perché sono notizie di secondo ordine su giornaletti eccetera eccetera così quindi che non mi riguardano ma che hanno semplicemente il fatto di tenere in pagina francesco margherita come succede negli ultimi giorni su vog e gq ve li faccio vedere subito perché ce le abbiamo qua ecco qua allora ora siamo su vogue e c'è questo articolo che è uscito di questa campagna vidas ecco la campagna datemi un mantello ok nella giornata nazionale delle cure palliative una campagna firmata vidas per la per sensibilizzare le persone va bene tutto a posto perché mi è arrivato un google alert mi è arrivato perché guardate con me non c'entra niente questa cosa perché in questa foto si vedono francesco virgola margherita e teresa maccapani sono foto di questo alvaro eccetera eccetera ok quindi si vede francesco margherita ok come non c'entra niente però google ha letto francesco margherita mi ha mandato un alert ok un google alert per posto e c'è francesco margherita questa cosa parla di francesco margherita intanto mi si è attivato il telefono ma che vuoi da me stai zitto ok allora che cosa ho fatto allora ho fatto eccolo qua ho fatto un articolo campagna seo di vogue datevi un mantello dove parlo è un articolo che fondamentalmente non ha neanche tantissimo senso salvo che però testo e lodi ecco parlo della sostanzialmente il titolo è fatto un po di contiene un po di termini piantati lì l'articolo parla molto bene di vogue è un articolo in cui faccio i complimenti a vogue dico grandi performer peraltro è vero poco quest'anno diciamo è andato molto bene questi sono i dati statistici che possiamo vedere attraverso semrush dove c'è appunto questa crescita ovviamente il mio blog semanticamente correlato a francesco margherita ok metto un link con anchor text datemi un mantello all'articolo di vogue dopo di che parlo ancora un po di questo di questo giornale dove parlo di quante dei volumi di ricerca sulle chiave di brand degli articoli che hanno fatto più traffico tutte informazioni che chiunque di noi può raccogliere con un account semrush sostanzialmente quindi non sono informazioni private che io vado a dare su di loro sono informazioni accessibili eh un grande consulente seo metto consulente seo con anchor text che punta alla home page perché cerco di sfruttare questa cosa qual è il senso di quest'articolo il senso di quest'articolo è far credere a google ingannarlo tra virgolette fargli credere che i due termini francesco margherita c'entrassero qualcosa con me come consulente con il sito ok quindi questo semplicemente questo fargli credere che ci fosse un legame tra me e quella pagina loro hanno parlato hanno inserito quei termini in pagina io con questo articolo cerco di fargli credere non che sono il seo di voglio perché lo scrivo io non so chi sia il seo di voglio in realtà nell'articolo è scritto molto chiaramente che è un articolo in cui io mi complimento con il seo di voglio chiunque sia perché fa un ottimo lavoro ok il giorno dopo mi arriva un altro google alert perché anche gq italia questo è l'articolo di voglio vedete anche gq italia ha rilanciato questa notizia ecco qua gq italia stessa foto ancora una volta francesco virgo margherita e teresa macchamani mi sono però siamo su un altro sito ora la questione è che anche quest'altro sito è molto importante anche quest'altro sito non è che mi menziona ma utilizza i termini francesco e margherita messi uno vicino all'altro allora anche in questo caso rafforzo il lavoro che era stato fatto crea un secondo articolo campagna su gq italia datemi un mantello ok parlo di questa campagna datemi un mantello anchor text volta lo metto davanti seo garden punto net consulente seo anche in questo caso l'articolo se andate a leggere il testo fa i complimenti a gq italia per le buone performance ottenute quest'anno un po di dati sui programmi di ricerca un po di appunto complimenti al consulente seo che ci ha lavorato qualche considerazione bella sul piano editoriale sugli articoli che hanno fatto più traffico in sostanza anche in questo caso link datemi un mantello all'articolo che menziona tra molte virgolette con grande approssimazione francesco margherita quindi avete capito che tipo di gioco ho fatto ho cercato di fare ho cercato attraverso due articoli di far credere al motore di ricerca che quei due termini francesco e margherita inseriti su voglio gq non fossero messi a caso buongiorno a chi si sta collegando ma ci fosse effettivamente un rimando nei miei confronti quindi questa cosa senza fare milioni di pagine spam senza lanciare miliardi di link spam semplicemente per vedere che succede ok senza alcuna belleità questo esperimento va avanti da qualche giorno che cosa sta succedendo nel frattempo è chiaramente presto per dirlo però intanto apriamo una nuova finestra in incognito non so se me la fa vedere ma forse no no non me la fa vedere vediamo un po' allora nuova finestra in incognito voi non la vedete però io posso condividi aspetta togliamo questa rimuoviamo questa condividi condividi schermo fa il video condividi schermo finestra e vi condivido questa una finestra in incognito ok la finestra in incognito ce la scriviamo seo vogue ecco qua seo vogue ecco qua il mio articolo è il primo non che sia importante questa cosa ovviamente non me ne importa è soltanto per capire cosa Google sta già vedendo se scrivo seo seo gq italia succede una cosa forse più interessante cioè ecco qua in prima pagina troviamo la home page del mio sito perché questa cosa perché semplicemente l'articolo che avevo fatto su gq italia non contiene termine seo nel titolo quindi lui ha preso la home page come pagina più rilevante se cerchiamo consulente seo ecco ecco che poi questo è il senso dell'esperimento consulente seo vediamo che la serp è quella solita io prima ero in terza fra la terza la quarta pagina con la home page del mio sito adesso sono alla fine della seconda pagina ecco qua sono penultimo risultato in seconda pagina quindi ci sarebbe stata una crescita dalla posizione 40 la posizione 15 17 più o meno nel giro di pochi giorni avendo pubblicato questo articolo questa cosa potrebbe dipendere anche dai problemi che ci sono stati con il server site ground perché hanno un po' rimestato l'esempio in effetti hanno prodotto indirettamente dei delle crescite delle perdite di posizionamento anche per chi non è su site ground come me che sono su flame network per esempio però diciamo la situazione si sta normalizzando infatti mi ricordo che il sito di laura venturini era primo per consulente seo nei giorni di trambusto di site ground quel sito non era più primo anche roberto serra se non sbaglio aveva perso qualcosa comunque le situazioni le posizioni sono tutte ristabilite e io adesso sono passato dalla quarta alla seconda pagina ok adesso non so che cosa succederà prossimamente però volevo condividervi questa cosa quindi ricapitolando ricapitolando e come faccio a ricapitolare mo devo fare a capo tutto va bene comunque no non lo facciamo lasciamo perdere ho cercato di far credere a google attraverso due articoli postati sul mio blog e con link ai due corrispondenti di gq e vog che queste due testate importantissime questi due magazine sulla moda in realtà stessero parlando di me o anche di me ok quindi è uno scherzo che ho fatto al motore di ricerca per capire ma il titolo campagna è un esperimento nell'esperimento stile coprivater la campanga certamente sì campagna allora dove sta campagna su gq italia eccolo qua aspettate che me lo vado anche a trovare campanga certamente a me piace molto seminare questi mi piace molto seminare questi ve lo faccio vedere il titolo campanga è un esperimento nell'esperimento stile coprivater sì in realtà mi hai scoperto perché è un è una cosa che mi piace fare non riesco a esibere lo faccio continuamente però devo dire la verità qualche volta mi sfuggi anche stavolta no stavolta la foto apposta bravissima la tua firma sì è proprio così allora ragazzi giusto qualche minuto mi sono preso per raccontarvi questa cosa prossimamente vi dirò anche come va a finire questa storia io quando un po di tempo per portare avanti queste cose poi ovviamente deve anche capitare l'occasione potete provare a fare lo stesso se vi va di fare un test del genere aprite un alert con il vostro nome quando esce qualcosa di simile su un giornale molto importante ci potete provare io ricordo una volta purtroppo sono cose che non posso ancora dire perché ci sono degli NDA di dieci anni però ci sono stati degli esperimenti dove sono successe delle robe veramente pazzesche ma succedeva nel duemila tredici duemila dodici fra un po' mi sa che lo posso dire perché i dieci anni stanno per finire e vi racconterò varie cose ragazzi buon dia a tutti scusatemi per questa introduzione torno alle mie cose fate bene e ciao 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 ciao